Per me questa spazzatura non ci gira troppo intorno la sindaca di Bareggio Linda Colombo nel commentare le ultime novità provenienti dal governo che dicono sì alle passeggiate con i figli e avverte fermeremo tutti invitando i cittadini a segnalare chi è in giro mettendo così a rischio la salute di tutta la comunità. Questa schifezza di questo foglio di carta che finirà nella mia spazzatura per me questa è spazzatura, io non permetto a nessuno, a nessuno dei cittadini di Bareggio di uscire di casa non osate, e qua vi dico non osate scrivere né alla mail mia né alla mail coronavirus se potete fare la passeggiata sotto casa, uno con i vostri figli cioè ma quale genitore rischia di portare in giro il figlio e rischia di mettere in pericolo la vita del figlio per fare due passi, scusate ma sono anche molto incazzata anche perché io i toni delle mail sapete si interpretano male italiano con quale ordinanza lei mi impedisce di uscire di casa? uno col buon senso, due c'è un'ordinanza regionale che dice che fino al 15 aprile tu non puoi uscire se proprio vuoi poi se per te è più importante l'ordinanza ministeriale allora tu mi devi giustificare che per motivi di salute o di lavoro tu devi fare questa passeggiata se no sanzioniamo e da oggi attueremo una morale ferrea fermeremo chiunque carabinieri, polizia locale chiunque fermerà anzi sto verificando se anche noi come ufficiali dello Stato possiamo fare le multe così esco anch'io e molto tutti perché mi sono rotta le balle ora io chiedo uno il buon senso ma vedendo i commenti credo che un po' di buon senso a qualcuno sia arrivato e spero perché io conosco i bareggesi alla maggior parte dei bareggesi due se c'è qualche soggetto che voi vedete che si ostina segnalatelo direttamente alla polizia e ai carabinieri punto gli date nomi, cognomi e via in anonimato e noi manderemo qualcuno perché non se ne può più non se ne può più di ste cose non si può più di ste medi quindi se non si può più di ste cose non si può più di ste cose secondo me non si può più di ste cose